No, questa non è la prima volta che vengo in crociera, sono stata su Costa Serena quest'estate con i miei bambini, sono venuta con Francesco, mio figlio e con Andrea, il figlio di Roy, che si sono divertiti come pazzi, tirarli giù dal toboga è stata un'impresa titanica ogni volta, siamo state una settimana, abbiamo fatto questa stessa crociera, ci siamo molto divertiti.